Luna Fellegara, studentessa del liceo Gioia, sta vivendo un'estate giapponese indimenticabile, tra lingua, attività e cultura tradizionale. Grazie a una buona dose di intraprendenza, tanta curiosità e una preziosa borsa di studio messa a disposizione da Lia Beretta, piacentina residente a Castel San Giovanni, la giovane ha potuto coronare il suo sogno, vivere un'esperienza di studio nel paese del sollevante. Una cosa che mi mancherà del Giappone è la puntualità dei mezzi pubblici. Infatti in questo mese non è mai successo che un treno arrivasse in ritardo e tutti gli orari d'arrivo prestabiliti sono sempre stati rispettati. Una difficoltà che ho dovuto affrontare, almeno inizialmente, è la lingua. Infatti qui non tutti sanno parlare l'inglese e anche le indicazioni, le avvertenze sui mezzi di trasporto o nei negozi non sempre sono anche in inglese. Ad oggi Luna ha già trascorso quattro settimane in Giappone e rientrerà in Italia entro fine agosto. Tra le altre cose, in questo periodo ha assistito all'allenamento di una delle squadre di sumo più forti di Tokyo.